tifosi bianco celesti ben ritrovati con entella time il lottizzario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo entella siamo già metà settimana una settimana che porterà i bianco celesti a tornare a giocare al comunale per una partita molto importante mancano infatti soltanto tre sfide al termine del campionato l'entella domenica alle 16 e 30 cerca punti importanti in casa contro la spalla e per assistere a questo penultimo match casalingo da oggi sono in vendita i biglietti lo saranno naturalmente per tutta la settimana sui soliti canali online su www.entella.it dove oltre a leggere tutte le informazioni potrete acquistare direttamente il vostro tagliando d'accesso all'entella point sino a sabato sera e poi domenica come sempre sarà attiva la biglietteria dello stadio tra via gastalli e corso lavagna sarà attivo anche naturalmente il temporali store per poter acquistare il vostro merchandising il merchandising ufficiale dell'entella la squadra oggi pomeriggio ripreso gli allenamenti al comunale per preparare questa importante partita noi vi ricordiamo anche che sul sito charity stars è possibile ogni settimana accaparrarsi facendo le proprie offerte gadget esclusive maglie indossate dai calciatori dell'entella ed esperienza appunto esclusive in questi ultimi giorni in particolare sono all'asta la maglia di victor de lucia della gara dei 110 anni con la lucchese e quella di daniele montevago parte del ricavato sarà devoluto poi all'entella del cuore che da anni sostiene il gaslini e altre realtà del territorio chiudiamo la puntata di entella time di oggi tornando sulla partita di lunedì dove l'entella ha strappato un punto importante all'adriatico di pescara contro il pescara vi abbiamo chiesto come sempre sulla nostra app ufficiale di votare quello che secondo voi è stato il migliore in campo del match il vincitore è stefano di mario entella time torna domani puntuale allora dice il nome